Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Santa Maria, sede della Sapienza. Nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amén. Il mistero. Accennavo ieri che di solito quando sentiamo, parliamo di mistero, quello che ci viene subito in mente nel linguaggio corrente è subito una cosa segreta, una cosa inafferabile, una realtà sconosciuta e così via dicendo. E addirittura se in alcuni linguaggi il mistero è anche quello che è attorno a una realtà poco chiara, opaca, e anche gruppi, associazioni misteriche e così via dicendo. Noi nel linguaggio cristiano, e direi allora teologico, ecclesiastico, mistero non è niente di tutto ciò. Il mistero capiamo bene in San Paolo, nelle lettere dell'Apostolo Paolo, che il mistero è Cristo. Il mistero è Dio, Lumen Gentium, capitolo 1, chiesa come mistero. E qui c'è un accostamento tra Cristo, la Santissima Trinità e il popolo di Dio, la Chiesa. Cioè la Chiesa che nasce per volontà di Dio creatore, del figlio redentore, dello Spirito Santo santificatore, la Chiesa icona della Trinità. Mistero nel senso paolino è proprio questo, il Dio che si rivela, il Dio che si fa conoscere, il Dio che viene verso di noi rivelandoci la sua intimità. Quindi il mistero cristiano, biblico, paolino, non è ciò che è sconosciuto, nascosto, segreto, quasi quasi di un gruppo così esoterico. No, il mistero piuttosto è la benevolenza di Dio che si rivela all'uomo. E non siamo noi, non per i nostri meriti, ma per grazia. Grazia, dono gratuito. È il Dio che si rivela gratuitamente, benevolmente. Nella sua onipotenza, l'inafferabile, diventa proprio conosciuto. Allora, il mistero è la rivelazione. È l'Apocalutto. Togliere il velo, in modo tale che si possa vedere ciò che c'è oltre il velo. Rivelazione. È Dio che si rivela. Quindi, il brano del Vangelo di oggi lo dice molto bene. Chi ha visto me, ha visto il Padre. E Gesù fa il discorso, Tommaso, mostraci il Padre. No, come? Tommaso, è da molto che sto con voi. Filippo, è da molto che sto con voi. E come puoi ancora continuare a dire, mostraci il Padre e chi basta. Chi vede me, vede il Padre. Ecco, siamo nel cuore della rivelazione. Gesù, come è il volto di Dio. La rivelazione, quindi, come Paolo arriva a questa affermazione così profonda. Per me vivere è Cristo. Perché Paolo ha capito l'immensità, la densità, la profondità, la preziosità di Cristo. E' un tesoro inestimabile che viene rivelato, che è stato consegnato, dato a noi, nella nostra povera umanità. Dovremmo allora, per arrivare a questa affermazione di Paolo par nostro, le stesse affermazioni di Paolo dovremmo fare anche noi, lo stesso cammino di Paolo. Come? Saremo noi a forzare, tra virgolette, il cielo? Certo, no. Non siamo noi a forzare Dio, ma è Dio che amorevolmente. Benevolmente, si dà. E' un dono gratuito, la conoscenza. Attenti, conoscenza ho detto, non conoscenza nel senso intellettuale, è di più. Conoscenza, dove ci tocca proprio il nostro essere, tutta la nostra persona, è l'intimità. Nel linguaggio biblico, quando si parla di conoscenza, voi vi ricordate, e Abramo conobbe Sara, e così via, è l'intimità. Il mistero è qui. Cioè Dio, l'inafferabile, che ho detto che non è ciò che è inafferabile, ma è l'inafferabile che si rende prossimo. Dovremmo fare un cammino, e ci vorrebbe la disponibilità. Possiamo anche noi fare l'esperienza di Mosè? Possiamo fare l'esperienza dei santi, dei mistici? Sì, incontrare Dio faccia a faccia. Sentiamo Sant'Ambrogio. Io mi incontro faccia a faccia con Lui nei sacramenti. Dice Sant'Ambrogio. E' un'espressione che evoca quella di Mosè. Mosè nella tenda dell'incontro. Dio li parlava faccia a faccia. Come un uomo parla a un uomo. Come un amico parla a un amico. E ancora, con un'altra stupenda immagine, le immagini sono sempre un veicolo meraviglioso, certo? Per le idee, i padri dicono, i padri della Chiesa, dicono che i sacramenti sono come le mani del Signore. Il canone romano, per quei tocchi, proprio con quei tocchi sapienziali, di cui i nuovi canoni della Messa, appunto, pur nella loro bellezza formale, non sono capaci, come rendono proprio i padri, rendevano. Quando i padri parlano delle mani del Signore, sono chiamate sante e venerabili. Non c'è nel testo evangelico questo, ma è il frutto di una riflessione, di una riflessione che nasce dalla contemplazione della Chiesa. vedere Dio faccia a faccia o stare in presenza di Dio faccia a faccia non è altro che parlare della rivelazione, la conoscenza. e quindi il trasporto che ci vorrebbe da chi, da parte di chi, noi, esseri umani, nella nostra realtà, fragilità anche umana, è data, colire, entrare, capire, Dio che viene a noi. Questa è un'esperienza mistica. Ogni mistico, ogni esperienza mistica, è in un certo modo una, tra virgolette, rivelazione. È l'entrata nel mondo di Dio. E questo è il mistero. Ho citato ieri Elisabetta. A che devo che la madre del mio Signore venga a me. Vi ricordate la tenda, Maria viene detta anche nelle litanie, Arca dell'Alleanza. Vi ricorderete dell'episodio di Obed e Dom quando Davide voleva portare l'Arca dell'Alleanza a Gerusalemme dove si era ormai stabilito come re e voleva dare un'episodio di Obed e Dom che si era ormai stabilito come re che si era ormai stabilito come re